Grazie, buonasera Simone. Ciao, buonasera. Abbiamo detto in tutti i modi che è un appuntamento con la storia che dicevamo poco fa. Uno che l'ha vinta tante volte la Coppa Campione dice che certe partite non si giocano, le finali si vincono. Ti chiedo che cosa ti aspetti da questo punto di vista? La storia del calcio è fatta anche di squadre che hanno sovvertito pronostici con un'attenzione assoluta, con una partita che magari tira fuori qualcosa di più di quello che ci si aspetta. Tu che cosa chiedi ai tuoi? Ma noi chiaramente sappiamo domani il tipo di partita che dovremo fare. Dubbiamente sappiamo che il Manchester City è la squadra in questo momento più forte al mondo, lo ha dimostrato anche nelle pochissime sconfitte che hanno avuto, ma noi sappiamo il percorso che abbiamo fatto, siamo orgogliosi di essere arrivati fin qua e faremo di tutto per fare una partita di una concentrazione incredibile, sapendo che dovremo limitare gli errori, fare il massimo perché affrontiamo una squadra molto molto forte. Prego. Ciao Simone, Tancredo, Meris, Italia. Senti Simone, l'Inter è un po' rappresentativa della tua parabola, in generale, perché tante volte vi hanno depennato, tante volte ti hanno depennato, tante volte ha detto che non dovevano arrivarci, non dovevano essere qua. Ti volevo chiedere se questo essere oltre gli underdog, perché non è soltanto un underdog l'Inter, non vi ha unito ancora di più e se c'è quella speranza di riuscirci, se si basa proprio su questo legame umano che c'è tra di voi. Assolutamente. Io lo dicevo anche dei tuoi colleghi dopo Torino, che domani sarà la 57esima partita per noi, quindi un percorso lunghissimo che sicuramente sono le prime 56 che ci hanno permesso di arrivare alla partita di domani, perché abbiamo avuto dei momenti difficili e in quei momenti difficili dove, perere mio, siamo cresciuti di più, siamo passati attraverso sconfitte meritate, sconfitte immeritate, abbiamo perso tanti giocatori importanti per lungo tempo, però i ragazzi sono stati bravissimi a stringersi tutti insieme, abbiamo ascoltato poco, abbiamo messo un impegno folle ed è l'impegno folle che ci ha portato qui ad Istanbul. Adesso, passato nell'ultimo periodo, dopo aver conquistato la finale di Champions, abbiamo avuto poco tempo, devo essere sincero, per pensare a quello che avevamo fatto, perché avevamo una qualificazione Champions in campionato da conquistare, una finale di Coppa Italia da rivincere, che ci tenevamo tantissimo, quindi solamente ora ci stiamo assaporando e capendo quello che abbiamo fatto, però non siamo rilassati, anzi concentratissimi, sapendo che domani cercheremo di combattere centimetro contro centimetro contro una squadra veramente forte. Buonasera mister, Andrea Schasi del mensile francese SoFoot. Domani, secondo lei, la chiave di questa finale si troverà a centrocampo, secondo lei? Grazie. Il centrocampo sarà molto molto importante, però al di là del centrocampo io penso che domani siano molto importanti le gambe, la testa e il cuore, perché le gambe saranno importantissime per fare quella corsa in più. La testa ci servirà per rimanere lucidi in tutti i momenti della partita, fin dall'inizio, perché sicuramente l'approccio sarà fondamentale e il cuore per queste partite è quello che in determinati momenti ti fa trovare delle energie che neanche tu in quel momento pensi di avere. Prego, Lissi. Simone, per favore, Andrea Galvon, SBT Brasile. Questa stagione è stata straordinaria, ma domani è il grande giorno per tutta l'Inter, per tutta l'Italia, per la storia del calcio italiano. Domani sarà una partita che vale una fitta per riscrivere la storia. Grazie. Assolutamente sì. Noi domani sappiamo che abbiamo una grandissima opportunità di scrivere la storia del nostro club. Sappiamo che sarà difficilissimo, ma ci proveremo. Metteremo un grandissimo impegno. Insieme, è la parola che ci ha portato tutti qua, ed insieme proveremo domani a fare un'impresa. Prego. Ciao Simone, Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Ho letto stamattina un'intervista di Pippo che dice che non è sicuro che tu dormirai stanotte. Volevo sapere se ha ragione. E se più in generale, come vedi, questa chiusura del cerchio, visto che lui le finali le ha giocate da calciatore, adesso tocca a te da allenatore. Ma senz'altro ho la squadra, lo staff è sottoscritto, devo essere sincero, siamo abbastanza tranquilli. Vedo serenità, chiaramente più l'appuntamento si avvicina e più chiaramente la tensione sale. Sappiamo domani cosa rappresenta questa partita per tutto il mondo inter, per la nostra società, per i nostri splendidi tifosi, che ci hanno aiutato tantissimo in questo percorso europeo, perché non siamo mai stati soli. Insomma, i due derby di semifinale sono l'emblema, insomma, quello che sono stati. Però non dimentico la trasferta di Plize in Barcellona, Porto, Lisbona. Quindi grosso merito va anche loro. Domani chiaramente quella corsa in più, quel sacrificio in più, lo dobbiamo a tutti i nostri tifosi e alla nostra società. Prego. Buonasera, Ministro. Franco Vanni, Repubblica. Ciao. Volevo chiederle questo. Tutti i suoi giocatori, nel raccontare la vostra squadra, dicono che prima delle grandi partite sono sì concentrati, ma molto tranquilli, molto sereni. E volevo chiederle se questo è il clima anche in cui avete preparato questa partita e com'è che ha fatto fin qui a mantenere questa situazione che poi ha portato risultati così buoni. Ma chiaramente ho la fortuna di allenare un gruppo di uomini veri che non li cambierei con nessuno, nel senso che questa rosa che ho a disposizione sono 20 mesi che mi dà grandissime soddisfazioni, grandissime gioie. Penso che le abbiamo regalate anche alla nostra società e ai nostri tifosi. Ho detto che c'è grandissima responsabilità per la partita che andremo a fare domani. I ragazzi sono abbastanza sereni, si stanno allenando nel migliore dei modi. Abbiamo ancora qualche dubbio su qualche posizione della partita, su qualche giocatore, Mkhitaryan e Correa, che sembrano essere in ripresa. Oggi avremo l'ultimo allenamento qui allo stadio e poi domani mattina avremo risveglio muscolare. Prego. Filippo Monticello, Gazzetta dello Sport, ciao. Volevo chiederti intanto se avevi letto le parole del presidente Zhang che ti ha definito oggi un dono elogiando la tua forza tranquilla e quanto questa forza sarà necessaria in una partita in cui è facile, come dire, perderla e farsi prendere dall'ansia. E poi se ci potevi dire qualcosa su Mkhitaryan, come sta, se può partire dall'inizio e se hai risolto il dubbio dell'anti, Giaco Loco, Luca. Per quanto riguarda i dubbi di formazione, ho detto, oggi c'è l'ultimo allenamento, Mkhitaryan ieri ha fatto il primo allenamento completo dopo 22 giorni, quindi ci sono buone sensazioni e poi dovrò decidere se utilizzarlo dall'inizio oppure tenerlo per partite in corso. Per quanto riguarda il presidente, mi fanno piacere le sue parole, ma mi fanno ancora più piacere che non sono state dette ieri pubblicamente a voi della stampa, ma al presidente nel nostro percorso, che è stato bellissimo, pieno di trofei, pieno di vittorie. Ci sono stati anche dei momenti non troppo felici e le sue parole di conforto, le sue telefonate, devo essere sincero, mi hanno sempre dato grandissima forza a me e al mio staff, perché chiaramente io parlavo con lui e trasferivo tutto sempre anche al mio staff. Prego, please. Hi, Simone, Adria-Enrique Volsson from Netta Visen in Norway. I guess a lot is about cutting the supply, but as you prepare your team for the final, how will you instruct your defenders to defend around Erling Haaland? We've seen defenders try almost all kind of methods this season, but what is the key in your opinion? Ma chiaramente sappiamo la forza del Manchester City, sappiamo la forza di Haaland, chiaramente sarà un osservato speciale come tutti i giocatori loro, però chiaramente è un giocatore d'attacco, abbiamo predisposto un qualcosa, però sarà tutta l'Inter che ci dovrà difendere, dovrà essere brava a limitare non solo Haaland, ma tutto quanto il Manchester City. Prego. Zoran, Mischewski, media macedone. Mister, complimenti per arrivare alla finale. Due cose. Prima, su difesa del City, è un po' diversa, strutturata in diverso modo da tutte le squadre italiane, soprattutto dalla posizione di Stones che gioca davanti alla difesia. Tanti esperti parlano che questa difesa concede poco, si deve attaccare, ci sono giocatori che sono lenti. Le pensa così o no? E seconda cosa, se avete preparato con più attenzione i rigori questi giorni, perché c'è possibilità che a finale si decide al calcio dei rigori. Grazie. Chiaramente per quanto riguarda i rigori, li abbiamo provati sempre durante l'anno, li proveremo anche oggi, quindi sicuramente c'è massima attenzione. Per quanto riguarda la difesa del Manchester City, è una difesa solida che in Champions ha concesso pochissimo, così come in Coppa d'Inghilterra, bisogna essere bravi. Loro ultimamente stanno costruendo in un modo e stanno difendendo in un altro, però al di là dei moduli, noi sappiamo quello che incontriamo domani, che è il Manchester City, una squadra di assoluto rispetto, e cercheremo, insomma, di fare la partita che bisogna fare in una finale. Beh, quello è naturale, insomma. Sarebbe importante per tutto il calcio italiano, per tutto il nostro movimento. Chiaramente sono molto dispiaciuto per la Roma e la Fiorentina, che hanno fatto, a parere mio, due ottime partite, ma purtroppo hanno perso. Adesso ci siamo noi domani con il Manchester City, ma indipendentemente da come finisca la nostra partita, da come sono finite le altre due finali, penso che quest'anno sia stato fatto un grandissimo traguardo. Insomma, era tantissimo tempo che nessuna italiana arrivava in una finale europea. Quest'anno siamo riusciti a portare tre finalisti in tutte e tre le coppe europee. Chiaramente è stato un bellissimo segnale per il calcio italiano. Allora, grazie a tutti, grazie a tutti. Chiaramente per quanto riguarda le scelte negli ultimi due mesi, purtroppo ho dovuto fare solo le scelte per quanto riguarda Brozovic, Mkhitaryan, Cianaloglu, gli attaccanti, i difensori, nei primi 5-6 mesi, purtroppo non ho potuto scegliere come avrei voluto fare, come sto facendo in questi ultimi due mesi e mezzo, e penso che i risultati si siano visti. È una grandissima risorsa per un allenatore poter scegliere. Chiaramente per domani valuteremo anche oggi la condizione di Mkhitaryan, che chiaramente non può essere al 100%, però nell'ultimo allenamento, ieri ha dato buoni risultati, vediamo oggi, e poi domani decideremo la formazione con molta tranquillità. Last question, please. Josefa Yilmaz, from Arabic Post. Mister, at this point, I think it's fair to say you are a finalist, a specialist, you have been winning Cubs. So I'm asking, how do you prepare your players psychologically? And do you have an assistant who only takes care of the psychological part of your players for the game? or do you do the one-to-one talk with the players? No, chiaramente ho la fortuna di allenare, come ho detto prima, giocatori che sanno giocare queste partite, perché non abbiamo giocatori che hanno giocato finale di Champions, uguale l'allenatore, però abbiamo giocatori e allenatore che hanno fatto tante partite importanti, insomma, i giocatori, abbiamo campioni del mondo, campioni d'Europa, quindi abbiamo un mix di giocatori giovani, di giocatori che hanno giocato tantissime finali. Chiaramente bisogna essere molto lucidi, molto bravi, cercare di gestire bene i particolari, perché sono i particolari in queste partite che fanno la differenza, e lì dovremo essere bravi domani nel sapere gestire i piccoli particolari che nelle finali fanno le differenze. Grazie a tutti, e il nostro signor Simonin Zaghi, ci vediamo domani per il match. Grazie. Grazie a tutti.